Le istituzioni devono assicurare condizioni di lavoro dignitoso per tutti affinché sia riconosciuta la dignità di ogni persona e si permetta alle famiglie di formarsi e di vivere serenamente. E' quanto sostiene la conferenza episcopale italiana nel messaggio per il primo maggio. Per i Vescovi è necessario creare le condizioni perché tutti i territori nazionali godano delle medesime possibilità di sviluppo, soprattutto le aree dove persistono elevati tassi di disoccupazione e di emigrazione. Un lavoro dignitoso, secondo la CEI, esige un giusto salario e un adeguato sistema previdenziale che sono i concreti segnali di giustizia di tutto il sistema socio-economico. Bisogna colmare i divari economici fra le generazioni e i generi senza dimenticare le gravi questioni del precariato e dello sfruttamento dei lavoratori immigrati, prosegue il messaggio dei Vescovi, convinti che fino a quando non saranno riconosciuti i diritti di tutti i lavoratori non si potrà parlare di una democrazia compiuta nel nostro paese. La conferenza episcopale italiana aggiunge che a questo compito di giustizia sono chiamati anche gli imprenditori, ma anche i lavoratori devono sentirsi corresponsabili del buon andamento dell'attività produttiva e della crescita del paese. Le chiese in Italia continuano nell'ascolto dei lavoratori e nel discernimento sulle questioni sociali più urgenti. ciascuno deve essere segno di speranza, concludono i Vescovi, soprattutto nei territori che rischiano di essere abbandonati e lasciati senza prospettive di lavoro in futuro.